La mala soddisfazione perché tanto trova finalmente un momento di unità che è solo l'inizio, un momento di unità, perché scatenata dall'arroganza di un'azienda che si è posta in termini perentori nei confronti del territorio, un'azienda ospite di questo territorio, e ha determinato questo principio di unione tra le istituzioni locali e alcuni attori del territorio, diceva bene Vito Pulsi, questa unità va estesa, su questa unità che da anni veniva ricercata ma che non è mai stata trovata. Molti di voi qui sono stati attori negli anni passati dei tentativi di unire il territorio per avere una voce comune su questo territorio, sui confronti del governo, sui confronti di chi su questo territorio investiva e lo sfruttava, ma quei tentativi sono sempre venuti meno. Amara soddisfazione perché quello che era un diritto, cioè che le imprese e i lavoratori venissero pagati, è stato il risultato di una battaglia che non doveva neanche essere. Amara soddisfazione perché non possiamo, ma io devo dire, lo registro anche dall'intervento che mi hanno preceduto, non possiamo pensare di aver raggiunto chissà quale il risultato.